...di profughi ambientali con a bordo una delegazione di migranti che domani sarà presente ufficialmente all'Aquila. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di portare all'attenzione dei grandi della terra le grandi emergenze climatiche. Secondo i dati di Lega Ambiente nel 2007-2008 sono stati 80 milioni di ecoprofughi che hanno abbandonato le proprie terre a causa di desertificazione, inondazione e degli effetti del riscaldamento globale. I cambiamenti climatici hanno dato il via a 6 milioni di ecoprofughi. Lega Ambiente avverte la necessità di un impegno collettivo per lottare contro i cambiamenti climatici frutto dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, elementi necessari per lo sviluppo dell'agricoltura in funzione del cibo che non c'è più in molte parti del pianeta. Lega Ambiente mette in conto perciò altri 3 milioni di sfollati costretti ad emigrare per cambiamenti dell'ambiente con la desertificazione e l'alzamento del livello marino. Nel 2007-2008 80 milioni di ecoprofughi per gli effetti del riscaldamento globale. Entro il 2050, secondo l'Agenzia dell'ONU, per i rifugiati 200-250 milioni saranno le persone costrette a fuggire dalle loro terre. Angelo Di Matteo appena sceso dalla goletta verde che oltre al lavoro di verifica del mare sta proiettandosi sulle questioni del G8 all'Aquila. E' arrivata a Pescara la goletta dei migranti, la goletta dei profughi. Domani si apre il G8 e è arrivata ufficialmente una delegazione di migranti qui a Pescara che domani sarà presente all'Aquila. Si tratta di portare all'attenzione dei grandi della terra le grandi emergenze climatiche che stanno determinando migliaia e migliaia di profughi ambientali. Profughi ambientali che si spostano alle proprie terre e che hanno necessità di diritti in altre terre. Questo è il messaggio e questo è l'impegno che chiediamo ai grandi della terra.